Credo che la prevenzione sia l'argomento più importante e quindi ringrazio Ferrovie dello Stato per la sensibilità che ha dimostrato nell'organizzare questo evento e soprattutto nel far sì che Frecciarosa in tanti anni abbia raggiunto tante donne. Quindi la sinergia è fondamentale e la prevenzione è il modo migliore per combattere tutte le malattie.